Il sindacato Assocasa di Avellino prende posizione sulla destinazione della struttura di Rione Parco dove era collocato il comando della Polizia Municipale. Scongiuriamo fermamente l'eventualità che la struttura venga utilizzata per alloggio temporaneo di extracomunitari. Speriamo sia solo una voce, dichiara Elio Amodeo, segretario Assocasa. Questa è una zona che ha già tanti problemi di periferia abbandonata, per cui nell'interesse dei cittadini che vi abitano ha bisogno di altro. Stamattina è il presidio di un gruppo di residenti. In questa struttura che venga messa, piuttosto che qualche servizio per il quartiere, una situazione, una struttura sociale per dare la mano all'attuale quartiere che è isolato, è abbandonato. Ci stiamo ingoiati qua, ma adesso mi portiamo pure acquistato e l'oro. E che facciamo? Ci prendiamo in ingoiato. È un abbandono totale questo quartiere, i politici ti vedono solo quando devono venire a chiedere i voti. Insomma, non potete bohiannazza se arrivino qui. E' uno dormitore qua. E' uno dormitore. Non ci sta niente. Tutto abbandonato, la monnezza è mezza via. Insomma, qua non si voglia sciare, non c'è la cosa. Poi mettiamo, non perché vogliamo fare i ratiti, per l'amor di Dio, che però vedono prima la necessità e per l'Italia, per gli italiani, non la precedenza a loro. Senta, ma lei che idea avrebbe per questa struttura? Come la vorrebbe riqualificare? No, questa qua la vogliono mettere pure le creature, come se vogliono aprire. Oh, signi, questi se ne vengono qua, ci trovano la casa mia, io me ne vado la casa su.